buongiorno da luca gs telefonia oggi abbiamo un iphone 5c dove il cliente ci ha fatto notare che il telefono arrivato al 60 per cento si spegneva e aprendo il telefono notiamo la batteria quante gonfie faccio notare la differenza da quella originale questa è una batteria difettosa questo è tutto ad gesto telefonia